È molto importante essere presenti online proprio per portare la nostra testimonianza, le nostre radici storiche alle nuove generazioni e a tutte le persone che ovviamente al giorno d'oggi usano internet. I benefici per i miei clienti sicuramente è vedendo la visibilità del locale e vengono dalla curiosità, vengono a vedere, a toccare con mano e poi il beneficio è la commestibilità delle pietanze. Tutta l'atmosfera stessa nel locale. Per noi è veramente fondamentale riuscire a trasmettere questo tipo di emozione perché la nostra attività è un'emozione fatta di luoghi, di decorazioni, di dipinti, proprio di respirare quello che c'è qui dentro. Diciamo che la gente è molto entusiasta di questa cosa. Quando dico, madonna, abbiamo visto questo Google Map, è bellissimo, ci camminano, è una cosa molto, molto soddisfacente. Sta camminando molto, molto forte. Siamo veramente felici di dire che da quando è iniziata abbiamo visto un 20% di incremento dell'attività online. Stiamo lavorando di più, diciamo, si sta creando un movimento commerciale molto notevole. Grazie, grazie a Google Map.